1975, Antonella Clerici e Benedetta Parodi pubblicano una trilogia intitolata Illuminatus. La trama racconta dell'esistenza di una potentissima società segreta che conosce l'unica vera e sola ricetta della torta di miele. Dopo oltre vent'anni durante i quali si sono succedute catastrofi naturali e ricette depistanti, sarà sicuramente un caso che nel 2017 ci sia stata una fuga di informazioni prevista dagli stessi Illuminati che porterà il mondo ad abbracciare finalmente la verità. Questo è il documento che rivela la ricetta della torta di miele degli Illuminati. Un abbraccio, Adam. Ciao amici e bentrovati ad una nuova puntata di Cotto e Buttato nel Cesto. Oggi ci occuperemo della ricetta più sottovalutata della storia. Mi sono stancata di ordinare una torta di miele e di vedermi arrivare un plum cake disidratato. Una ciambella talmente asciutta che per deglutirla ti devi bere pure l'acqua d'eccesso. Diciamo no alle torte di miele ariose. Questa battaglia noi la combatteremo con questa ricetta. Carrellata di ingredienti. 125 grammi di azucar. Un cucno di miele. Pizzico di sale. Tre mele rerette in rapida successione. Succo e scorza di un limone. 200 ml di latte. Vanillina. Cannella. Lievito pane degli angi. Due ova. 60 grammi di burro. 160 grammi di farina. Dunque allora il primo passaggio ha un livello di intuizione pari a circa 4 punti soleil e consiste nel pelare tutte le miele, tagliare le fettine e disporle in una ciotola parte con il succo del limone. Dovete avere un po' di pazienza e continuare a tagliare la miele in fettine molto sottili. Non vi scoraggiate. Continuate a tagliare. Non vi fermate. Ancora un po'. Ultimi sforzi. Andate avanti. Proseguite. Dunque allora quando avete finito di pelare le miele procedete con uova, pizzico di sale a sugar. Quando avrete raggiunto un composto spumoso, aggiungerò un cucno di miele e il purno. Aggiungerete ad una composizione finale di un microplip al secondo. Aggiungete il latte, la farina e il lievito setacciati. A questa sbobba così ottenuta potrete aggiungere la cannella a piacere, ma mi piace tanta, e la vanillina e la buccia del limone grattugiato. Giunti a questo punto, come disse Alfonso Signorini, ala Iacta Est, non ci resta che versare il composto l'ho ottenuto nelle miele. Teglia imburata e infarinata, forno a 180 gradi per 50-60 minuti e via. Io sto, non abbiamo un problema. Se poi dopo voi avete una teglia leggermente più grossa, vi verrà pure meglio. Bene, per oggi la ricetta è finita. Vedrete che dentro verrà tutta umidicia piena di pizzicini. Baci stellari. Stai a bruciare. Dai su, che California becheri mi spiccia a casa.